Sto con me nella mia domenica. Stamattina mi sono svegliata vicino a Fede. Amo svegliarmi con la luce del sole che entra dalla finestra. Ho preparato il cappuccino e la colazione anche per lui stamattina. Lui è tornato a casa mentre io mi sono preparata. Pato che nei direct di Instagram me l'avete chiesto in tantissimi i pantaloni sono di Berska. Volevamo andare a mangiare al mare ma per non spendere troppi soldi di andare a un ristorante così di pesce abbiamo deciso di farci dei panini e gustarceli così, vista mare. Vreamente stupendo. Voglio precisare che i panini li ha fatti Fede. Sa esattamente i miei gusti a memoria con il tacchino, il pomodoro e la rucola. Siamo rimasti un po' lì perché veramente la temperatura era perfetta. Era quel venticello fresco, il sole che ti scaldava ma non troppo caldo. Veramente fantastico, stanno tornando alle temperature che amo. Siamo fermati a fare benzina perché da sola non la so mettere e poi abbiamo preparato due merende stragustose e anche sane. Perché dobbiamo smetterla di mangiare solo schifezze quando siamo insieme? A breve vi lascio il video di queste due ricette. Abbiamo creato un finto tiramisù e il mio doveva essere un gelato ma è uscito un frullato. Mi prego, guardate la reazione di Fede quando ho assaggiato questo finto tiramisù pensando che non fosse buono. Ci hanno raggiunto mio fratello con la ragazza e i miei genitori. Ci siamo vestiti tutti insieme la Roma. Giusto perché domenica, dopo cena, ci siamo mangiati un bel dolcetto. Raga, buonissimo. Raga, buonissimo.